Beh... Ehm... Hè? Questa devi fatto il foto, fratello! Non hai capito come? Ma stai a buttare! Non ho capito! Non sa far video! Perché amani non la vede tutta la cosa! Sono ripensato, magno! No, no, no... È tanti! Quanta amare tutto il tuo mare! La lascio! Eeeh! Guarda il tempo! Guarda il suo forte, già... oh che come va? che come è? capire se la attraversa via il pane e bimbo vai a apri ci vediamo ci vediamo